Dal 5 settembre le nostre vite sono cambiate. Barricallebo vuole chiudere, ma noi non siamo scarti da eliminare. E' una sorta di appello alla città il volantino sindacale che chiede ai verbanesi di non lasciare soli i lavoratori della storica fabbrica in trese. La multinazionale del cioccolato che l'ha rilevata nel 1999 ha deciso di chiudere dai primi mesi del 2025 lo stabilimento. A perdere il lavoro circa 150 persone. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS